Cari bambini e cari ragazzi, oggi vi propongo una canzoncina. Si tratta di uno stornello facile facile che potrete imparare tutti, mi raccomando. Impariamolo e magari uno di questi giorni ci incontriamo su Hangout per provarlo tutti insieme. Durante il video vedrete alcuni disegni creati dai bambini del gruppo piccoli e delle immagini di istanti del gruppo dei più grandi. Buon ascoltato! Hashtag Cristanti Mavicini. Siamo fermi ad aspettare, tutto poi dovrà passare. Questo virus non ci abbatte, il mondo poi sorriderà. Ci vuol calma e pazienza e anche molta intelligenza per salvare con coscienza questa nostra società. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e imparo una canzone, una canzone che fa. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e canto una canzone con mamma e papà. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e canto una canzone con mamma e papà. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e canto una canzone con mamma e papà. Siamo fermi ad aspettare, tutto poi dovrà passare. Questo virus non ci abbatte, il mondo poi sorriderà. Ci vuol calma e pazienza e anche molta intelligenza per salvare con coscienza questa nostra società. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e imparo una canzone, una canzone che fa. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e canto una canzone con mamma e papà. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e imparo una canzone, una canzone che fa. Io oggi non mi muovo, io oggi resto a casa e canto una canzone con mamma e papà. Grazie a tutti.